Questo video riguarda i migliori tre macchine per il pane. Il vincitore della qualità è il Panasonic SD YR2540. Sapete cosa c'è dentro? Con la macchina per il pane SD YR2540 di Panasonic è possibile preparare il pane fresco e profumato. Preparate il vostro pane preferito senza sforzo con uno dei numerosi programmi automatici o semplicemente usatelo per creare la vostra pasta creativa per le vostre idee di pasticceria. Nei programmi automatici, due scomparti separati assicurano che gli ingredienti freschi come lievito, uvetta, noci, olive o simili. Durante l'impastatura, si può mescolare esattamente al momento giusto. A seconda del tipo di farina, il Backmeister ottimizza il processo di preparazione e offre risultati eccellenti in modo affidabile. La macchina per il pane funziona anche con sensore. La temperatura interna ed interna vengono misurate in modo continuo e i programmi sono adattati in modo intelligente per impastare i giardini. Per le vostre esigenze personali, scegliete la dimensione del pane e il grado di doratura. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'IMETEC Zero Glue. Impasta. Lievita e cuoce in autonomia pane e dolci, avvio programmabile per svegliarsi ogni mattina con il profumo del pane appena sfornato. Tecnologia con doppie pale impastatrici, temperatura controllata di lievitazione e doppio livello di cottura per pane fragrante e croccante. Accessori per panini e plum cake, anche senza glutine, contenitore per pane, due contenitori per due ciabatte, due contenitori 6 panini, cestello portastampi, bicchiere graduato, misurino per lievito. Accessori con rivestimento antiaderente BPA free e PFO a free. 20 programmi automatici, programmi per farine salutari e gustose, programmi per farine senza glutine, programma impasto e lievitazione pasta pizza, programma marmellate. Tre livelli di doratura per una cottura della crosta chiara, media o scura. Il vincitore del premio è il Kenwood BM450. Prima prepara l'impasto e poi lo cuoce, grazie alla funzione preparazione rapida. Permette di passare dall'impasto alla cottura in soli 58 minuti. Un timer aiuta a programmare l'accensione e l'esecuzione del programma impostato con partenza ritardata fino a 15 ore. Indicatore dello stato del programma di lavorazione, preriscaldamento, impasto, lievitazione, solo forno, riscaldamento, 3 capacità max di produzione, 500 g, 750 g, 1 kg. Per la preparazione del pane senza glutine e della marmellata. Permette di ottenere, a seconda del pane desiderato, una crosta più croccante. Spegnimento automatico, luce interna, mantenimento in caldo fino ad un'ora, piedini antiscivolo. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.